Chi disse preferisco avere fortuna, che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde. 20 e 34, buonasera, bentornati a TGTG. Vi presento subito i nostri ospiti. Gian Piero Spirito, capo dei servizi sportivi di TV 2000. Buonasera, Gian Piero. E poi il tenente colonnello Marco Iannuzzi dell'Aeronautica Militare, stato maggiore difesa. Nonché campione sportivo, lo vedremo subito. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Vorrei commentare subito con lei queste immagini e soprattutto queste parole tratte dal film Match Point di Woody Allen. C'è la pallina che si ferma sulla rete, forse andrà di là, forse toccherà la rete e tornerà nell'altra metà campo. E questo fa la differenza. La differenza per lei qual è stata? E' andata nella parte giusta del campo. E che è successo? Abbiamo vinto, ho vinto, nel senso può sembrare retorica, però da come si sono evoluti alcuni eventi della mia vita, che poi mi hanno portato a essere anche qui oggi, sono stato senz'altro fortunatissimo, insomma. Ricordiamoli questi eventi. Lei è stato un pilota di aeronautica militare e ho avuto un incidente di volo, un incidente in volo. Durante una missione di addestramento il motore si è spento e abbiamo dovuto decidere in pochi secondi che cosa fare con il mio struttore. Chiedo scusa, non interrompo. Un incidente dovuto, io leggevo, mi confermi se vuoi, bullone tarroccato? Sì. Questo riportavano i giornali? Questo riportavano i giornali, questo è stata la fine dei 13 anni di vita. Cioè non dipendeva da voi in nessun modo? Ecco, si è spento il motore e poi? E poi abbiamo dovuto decidere abbastanza in fretta che cosa fare. Lasci il velivolo o tenti un atterraggio in emergenza. Lasci il velivolo, ci sono delle persone che potrebbero rischiare perché tu hai lasciato il velivolo anche in condizioni di sicurezza. Vai giù con l'aereo e tenti l'atterraggio in emergenza e lo controlli fino all'ultimo. Noi abbiamo optato per questa situazione e abbiamo fatto anche un atterraggio che è andato molto bene. Il mio struttore di volo è stato capace di portarlo a terra nelle migliori condizioni, solo che in quel momento quella pista che abbiamo scelto, che era un campo di erba, finiva con uno strapiombo e siamo caduti all'interno di questa scarpata di 17 metri. e quindi abbiamo avuto una conseguente lesione al midollo spinale da quella caduta nella scarpata e non con l'incidente aereo di per sé, diciamo così. E tutto questo per salvare probabilmente altre vite che se voi aveste abbandonato avreste potuto, no? Avremmo potuto e devo dire che i piloti aeronautica militare sanno perfettamente quali sono le condizioni. veniamo addestrati per questo, vengono addestrati per questo perché io non sono più un pilota. Però diciamo che nel calcolo del rischio e delle probabilità, effettivamente portare l'aereo a terra ed evitare danni collaterali è quasi sempre la miglior soluzione, lì dove c'è la possibilità di farlo ovviamente. E noi abbiamo avuto la possibilità di farlo. Anche se naturalmente, almeno quelli come me direbbero, uno l'istinto di sopravvivenza ti porta a... Devo dire che per qualche secondo ci ho pensato anche io. Però la tranquillità del mio strutturevo l'ho fatto sì che mi tranquillizzassi anche io e che anche per me diventasse quella la scelta più giusta, effettivamente. E da lì poi è iniziato una sorta di seconda vita, no? Da lì c'è stato uno switch. Ovviamente sono stato nove mesi ricoverato in ospedale, tre dei quali li ho fatti praticamente allettato, per il quale ho avuto tantissimo tempo per pensare a me, alla mia famiglia, a quello che mi stava succedendo e quello che poteva essere il mio futuro, che ovviamente era cambiato drasticamente. Quindi non ho avuto immediatamente il sorriso, la forza e la voglia di rimettermi in gioco. Però la mia famiglia mi è stata molto vicino, la mia forza armata non mi ha abbandonato neanche per un momento. guardandomi successivamente intorno, in quell'unità spinale del CTO qui di Roma, dove forse l'incidente più grave era il mio, la persona che aveva avuto forse meno danni, ero sempre io, mi sono detto che non hai il diritto di poterti lamentare, ti devi rimboccare le maniche e devi andare avanti. Così ci ho creduto, così ho avuto l'opportunità, la fortuna, e qualcun altro ci ha messo anche la mano dall'alto. Quindi hai ricominciato, lo sport è stata la... Dopo un anno lo sport mi ha dato quelli che erano dei nuovi obiettivi. Noi siamo sempre abituati a sfide, a obiettivi, a perseguire dei risultati. E lo sport in quel momento me li ha dati questi stimoli. Ho scoperto il nuoto paralimpico, nella stessa società tra l'altro dell'attuale presidente del Comitato Italiano Paralimpico, e vedere queste sue fotografie mi ha stimolato tantissimo. Sapere che persone con una difficoltà maggiore, con una disabilità maggiore della mia, ottenevano determinati risultati sportivi, mi ha stimolato affinché anche io ci provassi. Ho avuto l'opportunità, l'onore di far parte della nazionale di nuoto dal 2003 e partecipare praticamente a tutti i campionati italiani dal 2002 al 2009. Ne ho vinto più di qualcuno. Ho partecipato a un mondiale, a un europeo. Insomma, il miglior risultato in gara internazionale è stato il quarto posto mondiale. Ecco, qui ci fermiamo per ora, entriamo nelle notizie. Prima però voglio, e poi riprenderemo questo capitolo per bene nella seconda parte, però, dal collega Giampiero Spirito, volevo sapere, tu hai dato una definizione, io vedendo la puntata di quando il colonnello è venuto ospite per parlare appunto di sport, dei suoi successi, tu hai dato una definizione, che vorrei fossi tu a darla, di quello che è successo, insomma, precedentemente, no? Cioè tu hai detto, questo uomo è un eroe. Ecco, lo volevo dire, noi, insomma, abbiamo assistito a questa spiegazione quasi normale, ma siamo in presenza e vicini a un eroe moderno, con le sue debolezze, con quell'attimo di esitazione anche. Però hai rappresentato, invitando il colonnello Iannuzzi, un compendio, un paradigma della storia paralimpica, un po' della storia umana, che ti dà sempre una seconda possibilità. E anche quello che conta, la fortuna e la sfortuna di un attimo, di trovarsi in quel momento, perché tutto era finito e invece c'era poi, c'era lo strapiombo. Però forse lo strapiombo era il lancio, il piedistallo per una nuova vita, forse questo rappresentava in qualche modo. Allora, entriamo nelle notizie del giorno e come ci entriamo? Come del solito, insomma, vedendo le aperture dei telegiornali di oggi. Vediamo. Cari italiane, cari italiani, è questo il settimo incontro di fine anno con voi, l'ultimo prima del termine del mio mandato presidenziale. Quello che mi ha sorretto e che ho cercato di trasmettervi è l'orgoglio di essere italiani. Siamo eredi di un antico patrimonio di valori cristiani e umanistici, fondamento delle nostre identità nazionali. È morto a 95 anni Carlo Azzelio Ciampi, capo dello Stato dal 1999 al 2006, già governatore della Banca d'Italia, premier e ministro del Tesoro. È stato il presidente di tutti, un padre della patria, ricordano in molti. È stato il traditore dell'Italia, accusa Salvini ed esplode la polemica. È morto a 95 anni Carlo Azzelio Ciampi, governatore di Banca Italia, presidente del Consiglio e poi capo dello Stato, sempre all'insegna di sobrietà e di equilibrio. Orgoglio per la patria, sobrietà e passione per l'Europa. È morto a 95 anni il presidente merito della Repubblica, Carlo Azzelio Ciampi. Al Quirinale dal 1999 al 2006, governatore di Banca Italia e presidente del Consiglio, fu tra i più amati dagli italiani. Lunedì, lutto nazionale, cordoglio delle forze politiche, polemiche per una frase di Salvini. Addio a Carlo Azzelio Ciampi, il presidente merito della Repubblica, si è spento. A 95 anni domani la Camera Ardente, lunedì lutto nazionale. A Bratislava si concluda con una evidente spaccatura. La riunione dei 27 leader dell'Unione Europea, la prima senza la Gran Bretagna dopo la Brexit. Dal vertice non è uscita alcuna intesa su crescita e migranti. Tutto rinviato a un prossimo summit che si terrà a Malta. Questi titoli ovviamente sulla morte di Ciampi. Allora, andiamoci a vedere però quali sono le altre notizie del giorno, quali spunti di riflessione ci offrono. Vediamo. Quel pirata ha ucciso mia figlia e ha distrutto per sempre la nostra vita. Al TG4 parla il papà di Giada, la ragazza di 17 anni, travolta da un'auto a Varese sotto gli occhi dei genitori. Dobbiamo evitare in tutti i modi queste tragedie, il suo appello. Allarme e maltempo nel centro Italia. Piogge forti, anche nelle zone terremotate, finora i disagi contenuti nella Tendopoli. Sale a 297 il bilancio delle vittime del sisma. Paul McCartney e Ringo Starr commossi alla prima del film di Ron Howard sui Beatles, a 45 anni dallo scioglimento della band. E documentario in arrivo anche per i Rolling Stones, ancora sul palco in piena attività con il 73enne Mick Jagger. Caso Roma, attenzione nei 5 stelle. Grillo, blinda, la raggi che si prepara ad annunciare il no alle Olimpiadi. Archiviate le accuse per Pizzarotti. Giornata nera per i mercati finanziari, trascinati al ribasso dai titoli della Deutsche Bank. Infatti l'Istituto di Credito tedesco ha perso l'8% dopo la richiesta di 14 miliardi di dollari del Dipartimento di Giustizia americano per chiudere le indagini sui multi subprime. Milano maglia nera, meno 2,43% a causa anche di un'altra banca. Montepaschi, che ha ceduto il 9%. Colonnero Iannuzzi, allora la polemica che monta, lo diceva il titolo del Tg1, Olimpiadi a Roma, raggi verso il no. Lei per le Olimpiadi a Roma? Da sportivo sì. E non da sportivo, c'è anche l'altra parte. Da cittadino dice? Da cittadino comunque sì. Sì, nonostante per noi romani avrebbe sicuramente una ripercussione in termini di traffico. E anche di soldi. E anche di soldi. Però sono convinto che un evento come l'Olimpiade, se la sappiamo sfruttare, può dare tanto al nostro paese. E dobbiamo smettere di dire sì, ma forse qualcuno potrebbe rubarci sopra. Dovremmo pensare a come non far fare questo. Nel senso, è stata un'opportunità per tutti. Sono riusciti a farle in Grecia, sono riusciti a farle anche adesso a Rio. E non credo che siano tanto più avanti rispetto al nostro paese. Quindi forse un pochino più di fiducia nei nostri confronti. E vigilare su chi gestirà o dovrebbe gestire questo evento, insomma, magari ci porterebbe a un ottimo risultato. E per lo spirito, oppure vengono in mente cose tipo Italia 90, insomma, dove c'è stato del malaffare, no? E quindi questo autorizza comunque i detrattori di eventuali Olimpiadi a dire, però qua in Italia le cose lo sappiamo come vanno. Qualche precedente c'è. Naturalmente l'hai citato, non solo per quanto riguarda il nostro paese, ma anche per altri paesi che hanno organizzato le Olimpiadi e stanno ancora pagando le conseguenze. Però riflettevo sul fatto che dire no alle Olimpiadi vuol dire anche dire no alle Paralimpiadi. E lo stiamo vedendo a Rio, no? C'è questa organizzazione congiunta, addirittura come requisito per assegnare la candidatura al CIO. Per cui pensiamoci bene, sarebbe un salto in avanti importante, anche per il fatto che Roma nel 60 fu la prima ad ospitare le Paralimpiadi. Perché se ci sono le Paralimpiadi oggi si deve anche all'intuizione allora del Dottor Maglio, nel 1960, da un centro di Ostia, portò questi atleti e ebbe questa idea di organizzare, dopo le Olimpiadi di Roma, anche la prima edizione, quello che era la culla delle Paralimpiadi. E non è una sottolineatura da poco, già. Grazie allora. Prima di entrare nella seconda parte, lo sport come vi avevo promesso, andiamo a vedere Papa Francesco, perché Papa Francesco oggi è stato, come vi dicevo, all'ospedale San Giovanni, nel reparto pediatrico e poi, subito dopo, in serata, pochi minuti fa, ha concluso la sua visita a Villa Speranza. Cos'è Villa Speranza? È un hospice del Policlinico Gemelli, un hospice per malati terminali. Vediamo. Un pontefice all'insegna della vita. Prima quella nascente, con la visita al reparto neonatale dell'ospedale San Giovanni a Roma. Poi quella più debole, ma non meno importante, dei malati ricoverati nell'ospice Villa Speranza, a due passi dal Policlinico Gemelli. Così Papa Francesco ha voluto celebrare questo pomeriggio l'appuntamento mensile con i venerdì della misericordia, un momento che Francesco, nel corso del giubileo, dedica a visitare un luogo di sofferenza umana. All'ospedale San Giovanni il Papa, tra lo stupore e la gioia dei presenti, ha visitato 12 bambini del reparto neonatale, alcuni con patologie anche gravi. Subito dopo si è recato a sorpresa all'ospice Villa Speranza, dove sono ricoverati 30 pazienti in fase terminale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco, e quindi grande è stata la gioia nelle due strutture. Francesco ha voluto dare il segno forte dell'importanza della vita. Da suo primo istante fino alla sua fine naturale. Colonello Iannuzzi, anche qui a me veniva in mente quella pallina che si ferma lì e poi in questo caso magari tornata indietro. Però la vita, e Papa Francesco ci ricorda sempre che la vita è degna di essere vissuta. Assolutamente sì, infatti sorridevo mentre vedevo il video su Papa Francesco, non devo dire nulla che non sia stato già detto abbondantemente. Credo che sia una persona eccezionale. Ho avuto la fortuna di incontrarlo. A proposito di fortuna, per questo ho detto, per me la pallina è andata nella parte giusta del campo. Sono stato sempre molto fortunato, a dispetto di quello che potrebbe sembrare. Perché poi la mia vita mi ha sempre regalato dei risvolti estremamente positivi. Anche in ordine cronologico, la possibilità di incontrare Papa Vuitila prima e Papa Bergoglio adesso, avevo fatto una promessa a Papa Vuitila. Ero ancora in sedia a rotelle e gli avevo promesso di essere ritornato in piedi. Non c'è stata questa opportunità perché purtroppo, insomma, lo sappiamo gli eventi come sono andati. Però sono potuto tornare appunto da Papa Bergoglio, rappresentare quello che stiamo facendo noi adesso con lo sport e per lo sport. Col tricolore. E poi sì, ho avuto l'onore di portare il nostro tricolore, quello che ci è stato dato dal presidente napolitano, per la prima edizione di Invitus Games. E ho fatto benedire prima di andare a Orlando per la seconda edizione di Invitus Games. E devo dire che la benedizione ha avuto i suoi frutti perché siamo tornati con tante medaglie. Ci ricorda in 20 secondi, poi entriamo nella seconda parte, che cos'è l'Invitus? Cosa sono gli Invitus Games? Gli Invitus Games sono i giochi dedicati interamente a militari che hanno subito delle lesioni permanenti fisiche, per malattie, per incidenti e per ferimenti. Questa edizione l'abbiamo avuta ad Orlando, negli Stati Uniti. Sono voluti fortemente dalla Casa Reale inglese e dal principe Harry, che si è avvicinato al mondo paralimpico perché durante il suo servizio, lui ha prestato servizio in Afghanistan, durante il suo servizio attivo, come elicotterista, ha avuto un'avventura portando in elicottero proprio uno di questi feriti, che era in fin di vita. e l'ha voluto seguire in tutta la sua fase, anche quella di riabilitazione e recupero, e ha capito che attraverso lo sport ci sono tantissime opportunità. Ha creduto in questi Invitus Games, li ha fortemente voluti, e anche, devo dire che sua nonna, la regina Elisabetta, lo ha appoggiato in pieno. e adesso, insomma, ci sono una serie di programmi. A settembre del 2017 saremo anche in Canada, a Toronto. Bene, e allora a questo punto possiamo entrare direttamente nella seconda parte di TGTG, in questo modo. Grazie a tutti. Gian Piero Spirito Io, prima di addentrarci in tutte le componenti, insomma, tutti gli argomenti che questo scatena, queste immagini scatenano almeno in me, insomma, però vorrei così sgombrare il campo virtualmente, simbolicamente da tutta la retorica che c'è, no, poverini, non poverini, sono disabili, non disabili. Vogliamo spendere due parole per questa cosa? Questi sono sportivi? No, riflettevo su quanto è bello lo sport, quante motivazioni dà, quanta forza dà, quante speranza dà, quante occasioni dà. Questo ci dimostra, no, che al di là della condizione, al di là della tua integrità, tu hai intatte le possibilità di affermarti, di affermare la tua nazione, di affermare la tua famiglia, di affermare le tue aspirazioni, li dà con un palcoscenico vero, dove con la costruzione di anni è stato non facile arrivare a questo momento, con le immagini delle Paralimpiadi, con le grandi storie che si possono raccontare. Ci sono stati anni di sofferenza, anni di umiliazioni, anche di chi magari cercava di spiegare che erano atleti, con alcune caratteristiche, però con le intatte possibilità di sognare. Credo che l'espressione più grande sia stata questa ai Paralimpiadi. Sono atleti perché fanno dei tempi e delle misure che possiamo praticamente paragonare, se non addirittura superare quelle degli atleti olimpici. E credo che questa sia l'affermazione più importante, cioè è sport, con le sue caratteristiche, ma è sport. E questo credo che l'Italia l'abbia dimostrato forse anche prima di tanti altri paesi. Ecco, colonnello Iannuzzi, appunto noi siamo abituati a fare dei contorcimento, inversioni linguistiche, parliamo di non si può usare il termine handicap, bisogna usare normo dotato, disabile, eccetera. Di fatto io registro che c'è qualcuno, erano in quattro, che adesso non mi ricordo la distanza, sul fondo hanno fatto, sono scesi sotto 1.500 metri, 1.500 metri. 1.500 metri, 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 1.500 metri. E vabbè, e allora questo cambia tutto, tutte le prospettive. Lei stesso, ho letto da qualche parte, che quando nuotava prima era meno veloce di adesso. Esatto, esatto. È un esempio che porto sempre, proprio perché, come dicevamo, serve a stimolare un pochino la discussione, è bene che se ne parli. Dare degli aggettivi, secondo me, serve a poco, è la sostanza che serve. Quello che notavo prima, per il quale mi confrontavo, è che ancora si vede qualche notizia dedicato al sociale. Per me non è sociale, per me è sport, è assolutamente sport, nel senso che qui ci sono ragazzi e ragazze che si allenano tutti i giorni, anche due volte al giorno. E che il loro allenamento non è assolutamente inferiore a quello di un normo dotato. Io stesso... E scusi, è che se non si allenano non arrivano. E se non si allenano non arrivano, quindi come qualcuno pensa, non basta essere disabile per poi andare a fare le Paralimpiadi. Devi essere un disabile che si allena nel quotidiano e che si dedica a quello che sta facendo. Devi essere bravo. Devi essere anche bravo. Un atleta. E anche lì fortunato a trovare poi il tuo sport giusto, come sono stato fortunato io per l'ennesima volta. Nel senso, il nuoto mi ha dato l'opportunità di poter emergere, forse proprio perché ero portato per il nuoto. E come diceva lei prima, in accademia che misuriamo abitualmente i nostri tempi, le nostre performance fisiche, io notavo i 50 metri in stile libero in 35 secondi e mezzo e ai mondiali l'ho fatto in 30 secondi. Mi devo chiedere quando ero disabile, se prima o dopo, insomma. Andiamo a vedere un po' attraverso, con il nostro Federico Plotti, un po' la situazione delle Paralimpiadi, partendo da un volto conosciuto, poi mi direte se è un bene o un male questo, che è quello di Zanardi. Vediamo. Ci sono persone speciali, donne e uomini, capaci di stupire sempre e comunque. Alex Zanardi è una di queste. Con la soglia dei 50 anni ha vinto ancora una volta una medaglia d'oro, la terza alle Paralimpiadi dopo le due conquistate a Londra, quattro anni fa. La specialità è sempre la stessa, Land Bike, una sorta di bicicletta spinta solo con la forza delle braccia. Le sue gambe, Zanardi, le aveva perse 15 anni fa dopo questo spaventoso incidente automobilistico. Mesi di cure, di riabilitazione, poi la rinascita. Merito della sua famiglia, della moglie, dei figli, ma anche della sua tenacia. Sono un uomo curioso, ha sempre detto, è questo che mi spinge ad andare avanti e a cercare sempre nuovi stimoli. La vita può essere bellissima, anche senza le gambe. Una forza d'ani a Rio gli ha fatto compiere un'altra impresa. Oltre all'oro di Zanardi sono arrivati anche quelli di Beatrice Vio nel Fioretto, categoria B. Di Vittorio Podestà nel Land Bike, nella cronometro H3. Di Luca Mazzone, sempre nel Land Bike, nella cronometro H2. E quello di Assunta Legnante, nel lancio del peso. Allora dicevamo, purtroppo, per fortuna, comunque si se ne parla perché c'è Zanardi, che è uno straordinario uomo, uno straordinario campione. Se non ci fosse lui forse se ne parlerebbe di meno, però insomma... Se serve per parlarne va bene. Ben venga, dice comunque sia. Sì, sicuramente avrà degli strumenti in più e delle possibilità in più rispetto magari ad altri. Però sicuramente fa bene allo sport per quello che riesce a fare, per quello che dimostra. Quindi non è solo un personaggio fatto su chiacchiere, mi permetto di dire, ma ci mette della sostanza. Prendere due medaglie di oro alle ulie delle Paralimpiadi, Londra e adesso a Rio. Prendere il secondo giorno un argento. Insomma, c'è una sostanza dietro a questa persona che è vera, è fatta da allenamenti, è fatta di sacrifici. E basta vedere come è cambiato anche il suo corpo e non intendo perché abbia perso le gambe. Intendo la muscolatura e la parte superiore si è raddoppiata da Londra ad oggi. E questo la dice lunga su quanto lui si sta impegnando. Ritorniamo al discorso di prima. È un atleta, è una persona che si allena nel quotidiano due o tre volte al giorno. E Gian Piero, allora, il posto che noi dovremmo conoscere di più è stare più attenti. Abbiamo visto in questo periodo che l'attenzione dei media era un po' altalenante. È vero che ci sono canali dedicati, però è vero pure che i primi titoli non arrivavano, almeno nei telegiornali. A meno che non c'era Zanardi. Però questo è un difettuccio che abbiamo. Sì, io sono combattuto tra due situazioni. L'analisi fredda che corrisponde a quello che hai detto naturalmente. Però se uno conosce la storia dall'inizio non può che apprezzare i grossi passi avanti del comitato paralimpico guidato da Luca Pancalli e dal segretario Giulio De Santis che in questi anni, grazie anche alle imprese degli atleti, hanno compiuto passi da gigante. Oggi comunque abbiamo la possibilità di seguire le Paralimpie di minuto per minuto. alla RAI abbiamo la possibilità di comunque nei giornali, al di là di dove sono inquadrate le notizie delle paralimpie, di molte sono comunque nelle pagine sportive, minuto per minuto le storie di questi campioni e una volta non era così. Una volta appunto chi si sforzava di andare a dire che c'erano queste paralimpie soffriva anche se tu hai ricordato che nel 60 appunto sono nate e a questo proposito volevo ricordare il tuo libro che è Rinati per vincere, storie di campioni ugualmente abili. Ci sono delle storie bellissime in questo tuo libro, Rinati per vincere ugualmente abili e partiamo da appunto... Nei primi anni 60 dove è nato tutto, Rinati per vincere credo che in qualche modo possa riassumere l'essenza, no? C'è una seconda possibilità e si rinasce in modo diverso però ugualmente l'obiettivo è quello di vincere, poi la vittoria può essere anche la semplice partecipazione, può essere loro, può essere il record, può essere stare insieme agli altri, può essere arrivare a una meta. Perché appunto non tutti diventano campioni con onnello perché come anche nelle altre discipline e negli altri sport, insomma, no? Però è l'obiettivo che fa ritornare nella società a pieno titolo chi può dare, non aspetta di ricevere, ma può dare un forte contributo. Tra l'altro tu stai scrivendo un altro libro su questo argomento. Sì, hai me che ne ho trovato molto tempo a disposizione. No, c'è la storia, devo dire, la storia del movimento paralimpico proprio perché al di là degli atleti che ci saranno far capire l'evoluzione anche organizzativa, gli sforzi, insieme, la sto scrivendo insieme a Antonio Verniole che è stato presidente della Federazione Sporti Sabbi dal 92 al 2000, ma ha seguito la storia diciamo dai primi anni 60, stiamo facendo questo sforzo di poter dare un retroterra, una storia a questa cosa bella avventura del movimento paralimpico. Mentre invece per queste paralimpiadi le medaglie, insomma, 32, è difficile pure tenere il conto in questo momento, mi diceva il colonnello che è collegato minuto per minuto, c'è la scherma che potrebbe regalarci qualcosa, comunque 32 medaglie, 8 d'oro, 13 d'argento, 11 di bronzo, ciclismo, nuoto, qualche atletica leggera, arco e tennis tavolo. Queste sono le discipline dove ci stiamo distinguendo. Allora, adesso cambiamo un attimo argomento, forse guardiamo lo sport da un'altra angolatura, perché nella nostra società, voi sapete, c'è sempre il senso del limite che deve essere oltrepassato a tutti i costi, lo vediamo con varie discipline sportive molto pericolose. Adesso in Norvegia se ne sono inventata un'altra, guardiamo. Tuffarsi di pancia da una pedana alta a 10 metri non è qualcosa che normalmente si cerca di fare, perché il rischio di farsi male è decisamente alto, ma è proprio questa l'idea alla base del Dodzing, un nuovo sport nato in Norvegia da pochi anni. Nelle gare di Dodzing i partecipanti devono tuffarsi dalla piattaforma e rimanere per più tempo possibile in volo, paralleli all'acqua e con braccia e gambe distese. Solo all'ultimo momento possono ragomitolarsi per penetrare meglio in acqua ed evitare dolorose spanciate. Il rischio di farsi male è più che concreto e se non basta il fatto che questo sport curioso è considerato uno sport estremo, ancora più significativo è il fatto che Dodzing tradotto significhi tuffo della morte. Coronello, da una parte c'è il tentativo di riscattare la vita, di darsi una seconda possibilità, di cavalcarla, di tornare grandi e forse anche meglio di prima. Dall'altra c'è la ricerca di qualcosa che sfiori la morte se non addirittura la tocchi. Come lo legge lei questo? Fa parte, lo diceva prima, forse fa parte della nostra società. Non vorrei si desse troppo per scontato il dono della vita e questo penso che tutte le persone con una certa disabilità acquisita, credo che lo sappiano, lo sanno anche molto bene. È un peccato andarsi a cercare, come nelle immagini che abbiamo visto, dei rischi. Non ce l'ho con gli sport estremi, anche perché a 18 anni ho preso un brevetto da paracautista, anche il pilotaggio se vogliamo non è una cosa, un lavoro da scrivania. Credo che sia inutile andarsi a cercare dei rischi inutili. Insomma, di sport ho visto pochissimo in queste immagini, non mi sentirei di catalogarlo come sport. È un atto che viene fatto per avere un po' più di adrenalina, ecco, ma non mi piace catalogarlo come sport, non c'è nulla di sport. Negli anni 60 e 70 quelle bravate dei tuffi in riva al mare sui fondali bassi erano una delle principali cause delle lesioni spinali e alcuni atleti, però lesioni cervicali, alcuni atleti poi sono nati così e è stata fatta una grande opera di cultura e adesso ce ne sono molto meno. Ecco, speriamo che si possa fare informazione per spiegare che forse qualcosa andrebbe evitato. Colonialo Iannuzzi, prima di chiudere, un messaggio, un suggerimento, un consiglio a chi magari adesso sta in condizioni, è depresso, non ce la fa, ha avuto un incidente, pensa che la propria vita sia finita e pensa di non avere una possibilità di riscatto? Assolutamente no, la vita non è mai finita, fin tanto che si ha la voglia e l'opportunità di poter continuare. Si può continuare a qualsiasi livello, qualcuno potrebbe dire che per me è semplice perché ho la fortuna di non essere sulla sede a rotelle, però non è questo, in realtà vale sempre la pena, lo dimostrano tantissime persone, abbiamo visto Luca Mazzone, è uno delle medaglie di oro, è stato per me un chiarissimo punto di riferimento nel nuoto, prima di fare handbike, lui era un atleta del nuoto e faceva parte della nazionale ed era un ragazzo, è un ragazzo, che ha dei seri problemi perché lui ha appunto una lesione cervicale e la sua forza, la sua determinazione è quella che mi ha incentivato in quel momento a cercare di dare ancora di più e per questo io dico vale sempre la pena, noi con il programma del gruppo sportivo paralimpico della difesa che stiamo facendo adesso è proprio questo quello che cerchiamo di dare in più ai nostri militari, un ulteriore strumento per capire che c'è sempre qualcosa, vale sempre la pena provarci e c'è ancora qualcosa da poter tirare fuori dalla nostra vita. Grazie al colorello Marco Iannuzzi per essere stato con noi, grazie al collega Gian Piero Spirico e chiudiamo con una poesia di un poeta dell'Ottocento che è William Haley e che si chiama Invictus, ma non solo per il titolo anche per il contenuto, ci sta bene, insomma è dedicata appunto a lei e a tutti gli atleti che stanno facendo grande il nostro paese. Eccola qui Invictus, Dal profondo della notte che mi avvolge, buia come un abisso che va da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per la mia indomabile anima. Nella feroce morsa delle circostanze non mi sono tirato indietro né ho gridato. Sotto i colpi d'ascia della sorte il mio capo è sanguinante ma indomito. Oltre questo luogo di collera e di lacrime incombe solo l'orrore delle ombre, eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Grazie per averci seguito, TGTG tornerà venerdì e lunedì, scusate, alla stessa ora. State bene. Grazie per aver guardato il video.